In molti di voi nei commenti ci scrivono che non facciamo abbastanza video, il che può essere vero. Il problema è che un membro dei DFN dorme troppo, decisamente troppo, e non voglio puntare il dito contro nessuno, posso dirvi solo che non sono io. Come vedete questo sarà un video un po' speciale, perché è il primo video che registriamo dopo quattro anni. No, comunque come vedete ci siamo io e David, che abbiamo due webcam differenti perché andremo a giocare a un gioco. Che gioco, David? Who's your daddy? Praticamente questo gioco qua lo facevano tanto, tanto tempo fa su YouTube, quindi noi che siamo Internet Explorer lo facciamo adesso. E non so niente di sto gioco praticamente io. Io ho visto un paio di video qualche tempo fa, ma comunque c'è tipo come muoversi e quelle robe là, non le so, non le conosco, quindi sì. Per questo ritorno incredibile, dopo 18 anni che non facevamo un video, un like subito. Un like in assoluto, lasciate un mi piace, vediamo se riusciamo ad arrivare a mille mi piace. Dovete seguirci su Instagram, è fondamentale per aiutarci ad aumentare i follower. Ah, e come vedete io e David, per sentirci, abbiamo le cuffiette sotto le cuffie. No, tu adesso hai le cuffiette sotto le cuffie. Ah, tu no. Io ho ancora solo le cuffiette. Adesso mi metterò. Io sono stupido e registro subito con queste. Come funziona questo gioco? C'è un padre e un figlio. Il figlio si deve suicidare, mentre il padre deve fare in modo che il figlio non si suicidi. È un gioco un po' strano. Ok, dai, allora direi che possiamo cominciare. Sì, ma come si comincia? Adesso, ci penso io adesso. Total play, cioè ci sono tre player online in tutto il gioco, davvero? Ma che schifo. Private. Fred puzza. Sì, ma son bastardo. Join game. Che... Wrong password. Che password hai messo? Niente, vuoto. Wrong password, mi dice. Ha messo vuoto. Ma è Fred puzza o Davies? Davies. Che c***o è Davies? Davies. Cos'è? Sì. Join game. Wrong password. Ma è vuota la password. Ma metti una password. Ma è possibile che qualsiasi gioco che facciamo ci mettiamo tre ore a iniziare? Sì, taci. È il menu. Oh, non stai giocando. Non stai giocando, non ci credo. Madonna mia. Ma non è difficile non inserire niente nel testo e vai solo avanti. Ma mi dice wrong password. Oh, beh, comincia, comincia. Ce l'abbiamo fatta. Sì. Starting in tre, due, uno. Allora, io che sono? Io sono il pedre. Eh, ma a me non va. Sono il padre. Ma cosa devo fare? Ma è tutto scuro. Ah, ecco. Allora, voazd. Oh. No, vai che è velocissimo. C'ho il mouse in mezzo. Ma c'ho il mouse in mezzo. Fa schifo. Che cosa vuol dire? C'ho il mouse. Il triangolino del mouse in mezzo. Ma perché io ho il mouse? Io non voglio il segno del mouse. Non lo voglio. Ah, Davide, ahia. Davide, ahia. Eh, ma. Ahia. Ah, sono morto. Oh. Ah, è po'. Oh, ma come? Ma come fai a essere già qua? Come faccio a prenderti? Fai strascago. Ma tu fai schifissimo. Sei uno sbordio di merda. Ma che schifo che fai. Come faccio a prenderti? Tu fai schifo. Che c***o fai? Che c***o succede qua? Si sono rotti i quadri. Come faccio a prenderti? Stai fermo. Ah, posso anche... No, guarda qua. VACCA VOIA! Che s... No, no. Ti giuro, mi son cagato ad osso come un non so cosa. VACCA DI. Che scago, vecchio. Cioè, io... Cioè, chi è che prende i jumpscare con Who's Your Daddy? Che non so. Ti giuro. Ma come faccio a prenderti? Io a volte ti chiedo. Ma porca vecchie... Ma io non so come prenderti. Oh, come hai fatto a entrare? No, dove c***o sono? No, vecchio, non so come prenderti. No, no. Ma scaghissimo, vecchio. Sembri un pedofilo. Non so come prenderti. Non è giusto. Che c***o ho fatto? No, io ti giuro. Mi... Cioè... No, no, tu non hai... Ma io... Davvero... Voi penserete che io sto facendo finta? Ma io davvero... Ma come si fa a prenderti? Ma sono verde! Voi penserete che io faccia apposta a fare gli urletti da... Da persona viride. Purtroppo no. Ma cos'è sto schifo? Perché è un cappello? Perché io sono... Ahà! Come hai fatto a prendermi? Ma che schifo che fai, vecchio! Come hai fatto a prendermi? Sembra un pollo morto. Come fai a prendermi? Ma dove... Oh, addio, ma sei attaccato a me! Ma che b***a! Come fai a prendermi? Dov'è lo sgorpio? Ah, che schifo! No! Ma come faccio a metterti giù? Ah, che schifo! Rimani là dentro! Verme maiale! Oh, 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 no! Oh, eh! Ah! Ciao! Io scappo! Come facevi a sdraiarti? Come facevi a sdraiarti? Ah! 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 Brutto polvo! Il ringraziamento! Torna qui! Come ti sdraiavi? Oh! Armeno risponde! Schifoso! Maiale! Cos'è successo? Dai! Ma vai via! No, mi sei buggato il gioco! Ma io vinco! Ah, forse devo rimetterti... No, vai che io mi sei buggato tutto! No! No, dove sono? Oh! Basta a sto quadro, schifoso! Ciao, Davide! Ciao! Ragazzi, sto gioco ha fatto bene... Ma poi chi è che tiene un bambino così? Cioè, cos'è sta impugnatura qua? Oh, finalmente posso ammazzarmi! Oh! Ma che... Ma ecchio è buggatissimo sto gioco! Tu non hai idea di quello che sta succedendo nella mia visuale? Ma perché non posso metterti giù? Ma basta, sti quadri! Che bugga... Ci sono quadri del muro, quadri che fanno... Ma sei verde! Ma la mia visuale... Sono in cucina adesso! Ma che ca... Sono fuori in cerdino! Ma perché stai diventando giallo che sei qua? Ma che c***o sta succedendo? Non riesco a metterti giù, sei appiccicato alla mia mano! Cos'è sto gioco? No! Ah, ho vinto! Sì! Madonna, che schifo di capelli! Cos'è? Che schifo è? No, ma tu non hai idea di quello che è successo con il mio gioco! Cioè... No, vecchio non posso... Eh, vai via! Sì! No, vecchio non so... No! Perché mi fa così scago? Ma perché? No, non posso prenderti io! Sei orribile, vecchio! Ma sei una schifo! Sei uno schifo, ti giuro! Sì! Sì, bravo! Cos'è? Cos'è? Cosa stai facendo? Cos'è sta cosa? Ma tu lo vedi? Lo vedi anche te? No, io sono completamente normale! Ma guarda, stai facendo... Sei tutto contorto! Eh? Co... Cos'è? Cos'è? Tyrion Lannister! Cos'è quella roba? Bello! Bello! Se quello... Se quel coso fosse mio figlio... Cioè, cos'è? Che... Merdo! Si è rotto tutto! No, si sta ribuggando! Buttami giù subito! Guarda, ste banane schifose che... No! Ho un'idea! Sì! Sì, ma io non ho vinto una volta! Quella capigliatura! Ottimo! Direi che questo era più che abbastanza! Questo gioco... Anche troppo direi io! Sì, perché questo gioco qui è... È strano! È molto strano! No, non è che è strano! È fatto con il buc del kill! Sì, detto in parole molto... Rinoscimentali! Mi raccomando, lasciate un mi piace! Iscrivetevi al canale! Seguiteci su Instagram! E... Fate i compiti! Noi ci vediamo settimana prossima! Speriamo! Sì, se vi chiedete per quale motivo carichiamo meno video... Il motivo è semplice! Frederick dorme! Il motivo è semplice! Non ho parole!